Non vogliatemene ma questo sarà un video un po' chiacchiericcio quindi prendetevi una tazza di caffè, una tazza di tè e facciamoci questa chiacchiera tutti quanti insieme. L'estate per me come per tantissime altre persone è un momento di relax, di spensieratezza nel quale non mi piace pensare a cosa mangio, a mangiare bene. Anzi lo prendo proprio come un momento di distrazione da tutto l'anno per potermi finalmente concedere quello che voglio senza diciamo pensare a conseguenze, al fatto che magari potrei ingrassare. Sono consapevole del fatto che mangiando quel determinato tipo di cose ingrasserò e quindi mangio coscientemente sapendo già cosa accadrà poi in futuro. Ma come vi dico sempre dato che secondo me l'equilibrio non esiste perché secondo me cercare di avere un equilibrio nella propria vita è una roba utopica perché inevitabilmente ci saranno dei periodi nel quale si daranno priorità a determinate cose e quindi quelle cose avranno un peso maggiore squilibrando il nostro equilibrio e dei periodi nel quale le altre cose avranno un peso maggiore rispetto a quelle di prima. Quindi se vogliamo mettere proprio a lunghissimo termine secondo me l'equilibrio nella vita è il dare priorità prima delle cose e poi a delle altre e cercare di compensare insomma in questo modo forse si riesce ad avere un equilibrio. Ma la domanda del video è come faccio a perdere tutti questi chili che ho preso nell'estate? Non vi nego che forse ve ne sarete accorti anche voi lo ripeto in ogni video io quest'estate sono ingrassato. Dire che sono ingrassato quest'estate non è proprio del tutto giusto perché in realtà non è che sono ingrassato nell'estate e praticamente da quando siamo entrati in lockdown e ci hanno chiusi in casa che io praticamente non mi allenavo più diciamo seriamente. Ho fatto degli allenamenti in casa alcuni di voi magari se li ricorderanno da instagram però inevitabilmente la mia alimentazione in quei mesi non è stata il massimo. Ho mangiato comunque sano però a differenza del normale quando solitamente faccio uno sgarro a settimana massimo due lì magari ne facevo in quarantena anche tre o quattro a settimana più o meno quasi ogni giorno cercavo di viziarmi coccolarmi in qualche modo ed ero consapevole delle conseguenze ma eravamo in una situazione nella quale veramente non mi andavo proprio di mettermi lì a pensare a cosa mangiare. E so che non sono stato l'unico ad essersi sentito in questo modo so che molti di voi saranno sentiti in questo modo e va bene perché l'importante è stare bene e cercare di avere almeno una pace mentale chi se ne frega se abbiamo preso qualche diretto in più perché la cosa bella della vita è che adesso viene tutto quanto un periodo nel quale ci possiamo focalizzare e perdere tutti questi chili. Questo è il primo di una serie di video che vorrei iniziare a fare che appunto vorrei chiamare My Fitness Plan nei quali magari vi aggiorno su che cosa sto mangiando e come mi sto allenando per raggiungere i miei obiettivi e quindi magari anche così potete avere un'idea di che cosa faccio. Questo diciamo che sta iniziando ora perché io prendo sempre settembre come l'inizio diciamo di un nuovo anno sarà che sono abituato dalla scuola per me sarà un anno molto particolare perché scuola e università non ci saranno più dato che a novembre mi laureo. E anche questa è stata un'altra delle ragioni per le quali ancora di più ho voluto prendere in questo momento dispensieratezza quest'estate perché io solitamente tendo ad essere una persona che si impone delle cose e vuole sempre diciamo lavorare 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 fare delle cose quindi grazie al cielo riesco comunque a distinguere i momenti diciamo di svago dai momenti di lavoro. Li prendo tutti e due molto sul serio quindi quando mi voglio svagare mi svago quando devo lavorare invece lavoro dovevo iniziare un master perché ho fatto la triennale ora devo iniziare un master col fatto che siamo ancora in mezzo alla pandemia quindi non è tutto passato dovevo prendere una decisione se fare questo master di un solo anno online oppure rimandarlo di un anno ed essendo che il master è tutto praticamente pratico l'ho rimanato di un anno quindi per un anno ragazzi mi avete a vostra completa disposizione 24 ore su 24 infatti ho deciso che quest'anno praticamente me lo prendo per dedicarmi tantissimo a voi a questo canale a questi video al miei social in generale quindi anche instagram sto sperimentando nuovi social tipo tiktok e reels che non fanno per me però lo farò e questo per aggiornarvi sul planning che non è proprio direttamente correlato al fitness però diciamo riguarda anche voi anche perché i vostri like i vostri commenti le vostre interazioni con me sono le uniche cose che mi fanno capire di star facendo qualcosa di produttivo effettivamente e di non star perdendo il mio tempo e vi ringrazio veramente tanto ogni volta che lo fate per me significa molto quindi se riuscite lasciate un bel like a questo video e commentatelo diciamo che da febbraio a settembre quindi ad oggi sono ingrassato quasi 10 chili so che magari dire sono ingrassato i 10 chili vi sembrerà assurdo perché molto probabilmente molti di voi mi diranno ma non si vede neanche che sei ingrassato i 10 chili però la verità almeno da quello che dice la bilancia è così e non sono disperato quindi mettiamo subito i puntini su lei perché so che ce la posso fare ho perso 20 chili in precedenza quindi 10 chili non mi preoccupano né mi fanno paura anche perché ragazzi vi dico che tutti i chili che magari mettete in un periodo del genere cioè nel senso tipo l'estate un periodo nel quale vi lasciate un po' andare sono la maggior parte di questi chili sono liquidi quindi non appena iniziate di nuovo ad allenarvi a fare le vostre cose perderete sicuramente velocemente questi chili infatti io so di rientrare in questa categoria di persone perché non essendo più andato in palestra da febbraio ho ripreso circa due settimane fa ad andare in palestra seriamente so che riprendendo la mia routine precedente diciamo pre lockdown questi chili perderò velocemente infatti piccolo spoiler tipo in queste due settimane ho già perso quasi 3 chili il che è tanto perché normalmente si perdono in una perioda di peso normale si perdono circa un chilo a settimana ma molto probabilmente nelle prime settimane si perdono un po' di più appunto perché sono tutti questi liquidi quindi perché ho deciso di allontanarmi da tutto e prendere tutto questo periodo così per due motivi prima cosa perché durante l'estate ho proprio bisogno di staccare seconda cosa perché può sembrare strano ma questa cosa mi aiuta ad essere più motivato ad avere più contenuti da fare per voi quindi più o meno è stato un po' una roba masochistica ma sapete che è sempre fatto pensando in voi comunque il mio piano per questo primo periodo è quello di sicuramente riprendere i miei allenamenti io solitamente mi alleno tutti i giorni a lunedì al sabato e ovviamente ho cercato di riprendere gradualmente non sui giorni quindi ho comunque cercato di mantenere tutti i giorni in allenamento ma facendo gli allenamenti molto leggeri rispetto al mio solito quindi se magari voi eravate abituati ad allenarvi tre volte a settimana e magari facevate degli allenamenti normali quindi non super strong potete anche fare magari tipo due o una volta a settimana addirittura e quindi andare ad aumentare gradualmente stessa cosa per l'alimentazione quindi giorno dopo giorno cercate di cambiare le cose e non vi svegliate di punto in bianco un giorno all'altro e cambiate tutto quanto per quanto riguarda l'allenamento io vado sempre ad affiancare un allenamento di pesi e cardio e questo per me è proprio il combo perfetto per perdere peso però è molto importante capire come farli questi pesi e questo cardio ah è come cardio per perdere peso piace molto la corsa e non è bella cioè non è che sono quando la sto facendo lì non è che sono proprio al massimo della mia gioia soffro vorrei tipo fermare tutto e non farlo più però quando dico che mi piace è perché so che con quella a differenza di tutti gli altri diciamo tipi di cardio riesco a mantenerla diciamo nella settimana e so che è quella che mi darà risultati più veloci rispetto al resto delle cose calcolate che io solitamente prima correvo quasi 10 chilometri ogni giorno adesso però ovviamente non mi posso mettere a correre 10 chilometri altrimenti muoio sto iniziando figuratevi da 3 chilometri che per me sono pochissimi e non vi nego che faccio fatica a fare anche questi 3 chilometri ma raga sono praticamente 6 mesi che stiamo fermi quindi è normalissimo uno dei consigli più importanti è proprio quello di non disperarvi perché prima o poi li perderemo questi chili quindi tranquilli per quanto riguarda l'alimentazione diciamo che quella è più particolare sia perché sto girando dei contenuti su quella lì che non vi voglio spoilerare perché è ancora troppo presto a spoilerarvi però comunque vi do degli indizi sto limitando tantissimo i carboidrati queste cose le potete vedere anche dai miei voti di Tina Day e forse dai miei voti di Tina Day potrete anche capire qualcos'altro quindi se non li avete ancora visti la playlist ve la lascio qua in alto cercate di intuire che cosa sto facendo diciamo che sto facendo una sorta di challenge per quanto riguarda l'allenamento pesi invece a me piace di solito dividere i muscoli da allenare faccio petto bicipiti dorso tricipiti gambe che solitamente per me è più glutei che gambe quindi faccio glutei e spalle e il modo in cui mi piace lavorare i pesi diciamo in questa fase di perdita è in super serie prendiamo per esempio che devo fare 4 serie da 12 ripetizioni di x esercizio e dell'altro di bicipiti anche di quello devo fare 4 da 12 allora faccio 12 di petto 12 di bicipiti e solo dopo aver fatto queste due serie allora faccio il riposo da 30 secondi quindi cerco di limitare i riposi durante l'allenamento pesi in modo tale da mantenermi ancora più attivo bruciare un po' di più e non vi nego in questo modo vado anche a ritrovare risparmiare del tempo perché appunto la corsa fare 4 5 chilometri di corsa richiede tempo quello veramente calcolate circa una mezz'oretta per partire proprio da 3 4 chilometri e se arriviamo a 10 arriviamo anche a un'ora di tapirulan che vabbè spero di arrivarci entro dicembre ai 10 chilometri per il momento il mio planning è questo qui cioè nel senso specialmente quello fit e questo qua allenamenti tutti i giorni vorrei arrivare in futuro a fare anche più allenamenti al giorno quindi magari dividere il cardio dai pesi e farli nello stesso giorno però in due allenamenti diversi ma questa è proprio un'utopia forse per febbraio marzo non lo so in previsione proprio dell'estate 2021 nel mio planning aggiungo anche il fatto che quest'anno mi voglio impegnare tantissimo anche nell'informarmi nello studiare sul mondo fitness non so quando ci sarà un prossimo video planning fatemi sapere voi se vi piacciono se vi piace sapere in cosa sto lavorando diciamo il backstage di tutto quello che vedete se è così vi ricordo che io lo capisco da un like se non vi va di scrivere un commento se vi va di scrivere un commento magari scrivete anche ma quanto è bello questo video io spero di non avervi annoiato tantissimo con questa mia chiacchiera e noi ci vediamo ragazzi ragazzi non so se vi siete resi conto che il mio impegno sul canale sta aumentando anche perché non sto facendo più un solo video settimana ma ne sto caricando ben due a settimana dato che so che vi piacciono tantissimo i what it in a day il martedì ho deciso che è il giorno what it in a day e quindi ogni martedì vedete un video what it in a day il venerdì a sorpresa il venerdì vedrete altri video e ci saranno dei cambiamenti anche su questo sul canale quindi noi ci vediamo prossimamente con un nuovo video state attenti perché siamo pieni di cose nuove siamo un po' pieni di novità 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 ciao